Hurra! No, 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 che fa calciare, deve andare al centro, fa calciare, no, va bene, se lo metti al centro è calciare al centro. Già siamo noi quelli di pagli, noi abbiamo già fatto un mullito, dai matti, capita qualche volta, capita qualche volta. Alla prossima! Grazie! 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 che non vale proprio la partita dai rubato dai dai rubato 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 dai grazie e poi l'ha fatta vedi che la trasforma grazie 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 par forza dai dai vai Roberto dai dai lo anche dai dai occhio dai vai dai Grazie a tutti. Dai! Vai direto! Dai Gabri! Dai Gabri! Grazie a tutti. 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 Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Grazie a tutti! Hai rubato? Dai, Simone!